Peppe Musella, consigliere d'opposizione di Qualiano, è stato eletto con una lista civica ma possiamo ufficializzare che alla prossima tornata elettorale imminente a Qualiano ci sarà anche la lista della Liga. Assolutamente sì, sono consigliere comunale eletto in maggioranza poi passato all'opposizione con la lista civica a Qualiano vive e la difendo. La prossima tornata elettorale sarà, grazie anche a Biagio Sequino, sarà con la Lega Salvini. È un progetto in cui io ci credo, lo ringrazio ancora per avermi dato l'opportunità di portare avanti questo pensiero e di creare una cosa nuova anche per il mio paese, ma adesso la cosa importante è quella di spingere, spingere, spingere affinché noi portiamo un nostro compaesano perché tra Qualiano e Calvizzano c'è una sorta di gemellaggio e di pensiero perché ci sono tante cose che ci accomunano, tanti problemi che ci accomunano e noi li dobbiamo risolvere insieme. Avere una sorta di gemellaggio tra i paesi significa risolvere tanti problemi ai cittadini. Adesso pensiamo a portare a Biagio al Parlamento e poi dopo andiamo avanti per le politiche a Qualiano, ma posso assicurare che la lista Lega Salvini ci sarà.